L'Avvocato Valeri ci ha fornito ogni elemento sulle attività giudiziarie sin qui espletate. Il Ministero dell'Ambiente ha cambiato in queste settimane organizzazione. Il Direttore Generale Lopresti mi ha inviato una nota in data di ieri. Condivideremo una modalità per acquisire il contributo, le informazioni che sono assolutamente necessarie di provenienza del Ministero. Dopo la pausa necessaria legata alla sessione di bilancio e poi al periodo feriale abbiamo ripreso a pieno ritmo definendo anche l'elenco dei numerosi soggetti da udire per andare fino in fondo in questa vicenda gravissima che a tutti nota. Noi abbiamo stabilito che terremo le riunioni della Commissione tutte le settimane. Attendiamo l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza per dare ritmo spedito ai lavori stessi. In secondo luogo abbiamo deliberato di chiedere all'Ufficio di Presidenza l'autorizzazione ad un'indagine ispettiva in loco. Vogliamo andare sul luogo perché vedere, rendersi conto dello stato dei luoghi stessi, dell'entità dei fenomeni di inquinamento e poi delle opere, degli interventi provvisionali che sono già stati posti in essere in questi anni. è necessario per un'attività di indagine compiuta, compiuta, capace di dare risposte ai cittadini abruzzesi, questo oltre che alle popolazioni direttamente interessate, questo è il nostro obiettivo di fondo.